Ebbene carissimi amici, una buona giornata a tutti voi, un buon inizio di settimana. Siamo qui nel nostro appuntamento consueto di analisi e estrazione, andiamo a valutare quello che è successo in questo quadro estrazionale e partiamo subito con la ruota di Bari che presenta ancora una volta una figura 9 in prima posizione. Grande segnale cari amici, grande segnale perché abbiamo tre estrazioni consecutive con figura 9 in prima, 27, 9, 36. Qui arriverà un grande 90, ambo di cadenza 53, 73 tra l'altro. Le ruote superiori Bari-Cagliari e poi abbiamo Roma-Torino, secondo me sono un poker fantastico per il 90. Abbiamo due spie fantastiche, quella di Cagliari. Cagliari guardate come il quadro estrazionale conferma le vie spie. 48 porta il grande 90 e l'ambo distanza 1, 71, 72. Un video che è stato molto visualizzato ma ho ricevuto pochi contatti per il metodo completo. Se poi esce l'ambo secco vi mangiate le mani perché le mie spie sapete benissimo che seguite con costanza e poi ci portano ambi a grafica. Quindi contattatemi via WhatsApp, 348 75 47 715, per aderire alla modalità vincita venuta dei metodi spia. Un solo estratto, unica ruota, 5 ambi e unica ruota secca. impegno di giocata, metodo che rimane sempre vostro, quindi importantissimo. Sono metodi sempre validi, non hanno scadenza. Le mie spie le potete sempre applicare. Mi raccomando, Cagliari è fortissima, Torino è fortissima. Guardate, Cagliari-Torino sono ruote gemelle. Guardate la distanza 1 tra le ruote di Cagliari-Torino, prima, seconda, agli opposti. Prima, seconda, quarta e quinta. 84 85 a Torino. Scommettiamo tutto quello che volete, che arriverà il 90 sia a Cagliari sia a Torino o arriverà addirittura in entrambe le ruote nella stessa estrazione. Ricordatevi queste mie parole. Scrivetevele su un foglio o memorizzatevele. Cagliari-Torino pagheranno un 90 da sballo. Sono due spie che pagheranno un 90 da sballo. Attenzione, guardate l'84 anche su Torino, dice sì al 90. Genova-Torino, quindi a conferma. 1 segnalatura del 90, 56 Torino segnalatura del 90. L'85 segnalatura del 90. Quindi Cagliari-Torino due grandi ruote. Due grandi ruote. Vedrete cosa arriverà ancora entro la fine del mese con questo 90. Faremo il botto. Faremo il botto. Chi perderà i metodi spia si perderà delle grandi vincite. Notiamo anche su Firenze-Genova. Guardate che quartetto di figura 9 in prima posizione. Bari, Cagliari, Firenze e Genova. Genova 54, figura 9 in prima. Firenze 9, figura 9 in prima. Tra l'altro Firenze porta il 9, 54. La doppia figura 9. Con l'ambo di cadenza 14, 54. L'1 qui arriva alla fine del mondo. Quanti 90 vedrete? Non avete idea. Ambo di cadenza 1 anche su Genova. 61 e 11. Attenzione. La distanza 1 anche su Napoli. 65 e 66. La figura 9 a Palermo in terza. Con il 36 e cadenza 6 in terza. Quindi un'altra grande condizione anche questa. La figura 9 in terza posizione anche a Roma. Se uniamo 54 e 36. Fa somma 90 in verticale. Palermo e Roma. Con l'ambo di cadenza 52, 82. Su Roma è triangolo di cadenza Palermo-Roma. 32, 52, 82. Meraviglioso. Quanti segnali in questo quadro estrazionale. Prepariamoci ad una settimana di gioco da martedì 20 febbraio. Esplosiva. Mi aspetto bellissime cose per il 90. Molta attenzione. Guardate l'84 anche a Venezia. Dice sì al 90. Addirittura in diagonale con Torino. Che conferma Milano-Venezia. 18, 81. Ambo vertibili unito. Figura 9, Venezia. Potrebbe andare ancora in ripetizione. Uscire a Milano. Sua diametrale. Figura 9 anche nazionale. 36. Quante situazioni in questo quadro estrazionale, cari amici. Quante situazioni bellissime. Veramente bellissime. Quanta figura 9. Tanta figura 9. Bari, Cagliari, Firenze. Genova in prima. Quindi eccezionale. Palermo la figura 9. Roma la figura 9. Venezia la figura 9. Nazionale. Attenzione a quello che succederà. Seguitemi sulle spie. Attenzione assoluta perché arriva un botto che non avete idea. Attenzione a prendere metodo e previsione. Al momento abbiamo Cagliari, Torino, le nuove. Sapete bene che poi analizzo il quadro estrazionale e vi vado a proporre le spie forti. E quando vi ho presentato le spie io non do 2, 3, 4 ruoti. Io do una ruota secca. Do una ruota secca con il 90 secco. E quanti ne abbiamo vinti? Quanti ve ne ho fatti vincere? Quanti ambi sono arrivati? Abbiamo fatto una chiusura di 2023 da mettersi le mani nei capelli. Abbiamo vinto a Firenze, abbiamo vinto a Genova, abbiamo aperto il 2024 con la vincita su Roma, su Napoli. Tutti ambi a ruota. Attenzione, attenzione. Poi, come sempre, chi fosse interessato ai miei metodi mensili, non sono da perdere. Mi contatti sempre via WhatsApp. Ho il singolo metodo, ho il pacchetto del diaro del mister. Metodi eccezionali. Sono anni che pagano e anni che pagheranno. Perché sono un momento di validi per sempre. Li ho inventati io. Li ho inventati io studiando sul quadestrazionale. Ho anche le mie previsioni. A colpo secco. Quindi, attenzione bene. Ci prepariamo ad una nuova settimana di gioco che partirà da domani, martedì 20 di febbraio. Andremo a valutare quello che succederà. Mi aspetto bellissime cose. Guardate quella cadenza 6. Anche Napoli-Palermo 66-36. Bellissima. Cadenza 6 in terza. Che la troviamo anche su Torino con il 56. Attenzione. Perché ci sono delle bellissime situazioni. E mi aspetto una metà di febbraio veramente vincente. Per adesso un saluto a tutti. Mi staspa conto.